Oggi siamo in camera di commercio, abbiamo parlato del marketing nelle piattaforme social media in Cina, un mondo assolutamente affascinante, molto diverso e molto facile da far intendere, però uno degli scenari più importanti per quanto riguarda l'innovazione nel mondo di oggi, perché oggi chiaramente l'Asia ha i grandi numeri e credo che il Faris Film Festival sia uno degli esempi più brillanti di quanto l'Asia sia in grado di portare dal punto di vista tecnologico, di entertainment e quant'altro, veramente l'innovazione di oggi si lega a questi scenari molto più che ai nostri probabilmente. Parlata su tutti quelli che sono i colossi veri e propri, quello che si può definire il vero e proprio ecosistema digitale cinese, che è molto diverso dal nostro e va conosciuto e va compreso e noi come realtà abbiamo attivato questo progetto di ricerca e siamo attivi nella gestione di canali, nel gestione di comunicazione che deve essere assolutamente mirata e deve partire da dei presupposti che molto spesso sono diversi da quello che è la comunicazione digitale classica nel cosiddetto mondo occidentale e sicuramente la fase di studio e di comprensione di questi fenomeni, la conoscenza dell'ecosistema vero e proprio, delle grandi realtà che lo compongono è vitale oggi per molti grandi in Italia.